io non so se posso spoilerare forse no però un piccolo spoiler lo facciamo visto che siamo noi tre tanto siamo in pochi intimi il sabato si si se boh se boh martedì registreremo noi tre un video con franchino e ci sarà anche il confronto ovviamente sarà più all'acqua delle rose perché famosto video è un ramoscello d'olivo da entrambe le parti Taralucci e Panini io ribadirò delle cose ovviamente che non il fatto di fare un video non cambierà il mio pensiero sulla vicenda però come ho sempre detto i video sono fighi a me non mi è mai stato sul cazzo quindi perché dobbiamo fare guerra inutili poi uno rimane della sua idea insomma della propria idea e questo qua ovviamente non darà a franchino il bollino di intoccabilità come molti pensano però basta troppe info secondo me sarà un video figo comunque grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti